Quindi ringraziamenti a tutta la famiglia d'Agostino, a tutto il gruppo dell'ingegnere d'Agostino sono assolutamente, restano gli stessi, non è cambiato usualmente nulla. Però è normale che quando tu perdi la tua autonomia e che diventi una minoranza a quel punto non puoi insomma accettare di cedere il passo avendo zero euro. Perché questa è la proposta, zero euro. Le storie d'amore si sa non sempre finiscono bene perché dopo tanta passione e condivisione alla fine arriva anche il momento delle verità spesso scomode da evitare ma a volte necessarie. Walter Taccone e Angelo D'Agostino si dicono addio così col presidente dell'US Avellino che tradisce con Gianandrea De Cesare, leader dell'azienda rivale, l'onorevole Di Montefalcione. Un binomio che lasciava presagire un futuro insieme più forte e invece che è terminato dopo una trattativa della quale da ieri si conosce il punto di vista del professore. Il presidente del club bianco verde ha così smentito l'esistenza di una buona uscita di 500.000 euro e ha ripetuto quello zero ad alta voce. Perché questa è la proposta, zero euro. Quasi come se stesse sventolando una bandiera di verità, la sua verità ed ora guarda il futuro in modo più sereno dopo il salvagente che gli ha lanciato il pacato e sorridente De Cesare. E' come se finalmente Taccone si fosse tolto dalla scarpa più di un sassolino quello di smentire l'esistenza di una società sull'orlo del baratro come era apparsa durante la discussione che si era aperta con l'onorevole D'Agostino ma anche di rilanciare il suo progetto, rimanere al comando della nave per portarla di certo più lontana rispetto a dove era arrivata lo scorso campionato. Tutto questo però non sarebbe stato possibile senza la sponsorizzazione triennale a obiettivi della Sidigas che arriva a raddoppiare o forse di più la cifra messa a disposizione in passato dalla Meta Edil. In un progetto in cui l'Udc ci ha messo comunque la mano come era già avvenuto nel salvataggio della Scandone e che il partito di Demita abbia svolto un ruolo decisivo in questa vicenda lo testimonia la presenza in sala stampa ieri durante la conferenza di De Cesare Taccone la presenza del consigliere regionale Maurizio Petracca e del consigliere comunale Raffaele Pericolo. Walter Taccone si è dimostrato scaltro e freddo come un giocatore di poker che conosce alla perfezione le regole e così alla fine ha vinto la mano più complicata. In più il presidente che ha ammesso di aver incontrato eccome Enrico Preziosi ha aumentato il numero dei club amici quelli, vedi Atalanta, che mandano volentieri i suoi giovani più talentosi al partenio Lombardi a farsi le ossa. Il risultato così è che da oggi l'asse Avellino Genoa si è aperta e le sorprese non mancheranno. A Enzo De Vito e Massimiliano Taccone che grazie al sossegno di De Cesare hanno a disposizione un budget sicuramente più forte e importante rispetto a quello degli anni passati il compito di non sbagliare neanche una mossa puntando su giocatori capaci del salto di qualità tanto sognato verso quella Serie A che secondo il presidente è possibile raggiungere in due anni. Ai tifosi dell'OS Avellino infine il compito di dimostrare, dopo una primavera torrida che l'estate porterà i primi frutti quegli abbonamenti che per ora sono fermi a quota 500 troppo poco per chi non si accontenta più di volare a bassa quota.